Angrigento e le amministrative, ascoltiamo Michela Palumbo, candidata al Consiglio nella lista di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, a sostegno del candidato sindaco Andrea Cirino. Angrigento e le amministrative, Michela Palumbo, candidata al Consiglio Comunale di Agrigento nella lista Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, a sostegno del candidato sindaco Andrea Cirino. Per quali ragioni e secondo quali obiettivi in particolare? Le motivazioni che mi hanno spinto a scendere in campo sono decisamente quelle di libera cittadina che non si sente rappresentata realmente e che ha visto negli anni l'avvicendarsi di volti che ormai sono conosciuti nell'ambito della politica agrigentina, che hanno mal amministrato la nostra città e che hanno dimostrato negli anni inadeguatezza e soprattutto interessi personali ed economici. Pertanto questa volta, a differenza delle altre volte, ho deciso di non criticare semplicemente ma di mettermi in gioco e di farlo nell'unico modo che penso sia il più adeguato per dare voce alla mia protesta ed è quello di partecipare attivamente alla vita politica. Ho scelto Fratelli d'Italia perché penso e condivido, mi riconosco nei valori di Giorgia Meloni e nel suo modo di fare politica. Non tollero più che la mia città si continui a stagnare nel degrado e nella bulia più totale. Oggi abbiamo bisogno di risposte concrete. Non posso più pensare che non si assicuri ai cittadini dei servizi basilari, che non si pensi ai nostri anziani e non si pensi ai nostri disabili, che si dà priorità agli immigrati a discapito delle famiglie povere che versano in condizioni di indigenza nella nostra città. Per tutto questo e per tanti altri motivi chiedo alle prossime amministrative del 31 maggio e del 1 giugno e ai miei concittadini di darmi la possibilità, votandomi nella lista Fratelli d'Italia e Andrea Cirino sindaco, di darmi la possibilità di partecipare attivamente affinché possiamo dare un volto nuovo alla nostra città e dare il giusto risalto ad aggrigento che penso lo meriti.